Non è un'illusione ottica, nessuno ci sperava più dopo un mese, alias play è tornato tra noi Alias, ma che fine hai fatto? Mi ha chiesto di registrare perché probabilmente ci deluciderà sulla fine Cioè tutti ci chiedevamo che fine avessi fatto, alias, tutto bene? Sì sì sì, non ti preoccupare, certo ho avuto un paio di problemi Va bene, vabbè poi mi racconti bene Allora io vi ricordo di supportarmi nello shop con il codice creatore deco trattino abusivo Taggatemi su Instagram, è importantissimo, ogni giorno do 5 link per entrare nel Discord ufficiale Se siete forti ragazzi a entrare nel Discord ufficialmente A proposito del Discord, anche di questo c'è da parlare Vabbè ma adesso me lo dici dopo, fammi finire Allora ragazzi, allora per fare il provino, codice creatore deco trattino abusivo Ogni giorno siamo in live a fare i provini ma soprattutto c'è il Discord ufficiale che possiamo parlare e chiarirci Oh, oh, era facile alias, no? Mi ha rovinato la parte del codice creatore deco trattino abusivo A proposito del team, mi hai buttato fuori Dal team? C'erano tante persone, non so, non sapevo niente Eh, dai andiamo in partita Andiamo in partita? Ti spiego tutto Spiega, 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 sono curioso adesso Alias, prima di qualsiasi cosa, come vanno i capelli? Malissimo Pure a me, pure a me Cioè, io malissimissimo, cioè sto un partito già male perché già dovevo tagliarli Poi è successo tutto questo Anch'io Cioè, proprio, vabbè, va bene così Come stai a lutto? Io malissimo Cioè, mi serve un pompa Hai trovato un pompa in più? Per caso? No Bello Eh? L'ho trovato ora L'ho trovato ora anche una jump, perfetto Ho il pompa del nonno io Una jump, una R Vai, alias, sono curioso Inizia con il discorso che ti ho visto abbastanza teso, eh Eh, un po' mi provo Allora, allora Innanzitutto Mi hai buttato fuori dal server Discord Mi avete, non so chi Come mai E che c'entro, scusami, hai buttato fuori Ma se è uscito da te poi? Se è uscito da te, alias No, 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 no Mi avete buttato fuori Mi avete buttato fuori Ma non è vero Cioè, tu mi hai detto di registrare un video Perché dovevi dirmi Che ti ho buttato fuori dal di Tu sei matto Dal Discord, alias Ma che sei di? Ma che sei di? Ma che sei di uscito da te? Ma che sei di uscito da te? Ma per dire, vai fuori dal team Vai fuori dalle balotte Sì, sì, sì Fuori da che? Dalle balotte Ma che vuoi di? Ma che sei di? Ma che sei di, alias Ma stai vaneggiando? Sto? Vaneggiando? Cos'è? Chi è? Chi è? È un amico mio Non conosci vaneggiando? No È uno nuovo del team In che senso? Eh, vabbè, vabbè È entrato lui e si è uscito a vedere Cioè, vaneggiando, Yax, vaneggiando Appunto 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 Cioè, senza dirmelo Senza niente E chi ha proprio così? Chi è appunto? Non lo conosco Appunto Cioè, giù Appunto Di quello che stavamo parlando Appunto Eh, ma che c'entra appunto? Ma non è entrato nel team Adesso Che è entrato nel team? Mi avete buttato fuori dal team Ma che sentimo chi è appunto? Le conosco vaneggiando Appunto Appunto Ma mi stai trollando quindi In poche parole Adesso Ma che senti? Oh Cioè Allora A parte Non ti abbiamo buttato fuori dal team Non diciamo cavolate Non dal Discord Se lo dè Anzi Ci stavamo chiedendo che fine avessi fatto Ci stavamo chiedendo che fine avessi fatto Guarda che sei bugiardo Sono bugiardo Oh C'è la cassetta Cosa sta roba Cos'è? Eh, la cassetta Cosa sta roba che Mi dai del bot In un video tuo Tu ti hai dato un bot in un video mio? Un bot nel video tuo Sì, ovvio L'hai fatto tu il video Hai dato che carichi tutti i giorni quindi Che volte che ti hai dato del bot? Che significa? Mi hai dato del bot in un video Del bot Ma che spoglio il video del bot? Ma Ah, gli ha stato tutto bene? Hai dato il bot Del bot in un video Ah, gli ha stato tutto bene? Cioè, stai bene? Qua stanno a fai da buono Bot, che qua? E qua stanno a fai da come matti E mi sembrano abbastanza cattivi Non ti far vedere? Ok, c'hanno il barret La stanno fai dando E faccio l'amico Non gli entrano i golpi GG C'ha pure il lanciarazzi Stai attento Ok, cattivissimi sono Quanto abbiamo rischiato Alias? E mi stai buttando giù Pusha Pusha Non sembrano malaccio Distrutto uno Dell'amico Vabbè, ma deve arrivare il rampino man ora Da dove? Ma sono due Allucinante Ma come giocano? Ma come giocano? Veramente Con il rampino giocano questi Ora si curano Comunque ne manca uno, eh Quanto gli ho fatto? Ancora Ma gli ho fatto 27? 22, 27 Allucinante Ma io ho finito i mazzi Cioè, seriamente? Ancora No, vabbè No, non è così Di nuovo Ragazzi No, no ragazzi Che te ridi? No No Cosa? Che te... Che s... Cosa? Che ca... Uno di vita Uno di vita Ragazzi Uno di vita Che è successo Che è successo? Raga Quante volte ho tolto 27? Ragazzi Ho tolto 4, 5 volte 27 Mi lancio per finirlo Cosa? Ok, mi sono fatto questo Tu sei vivo? Sei vivo? No Hai bisogno di aiuto? C'è una pistola con tre colpi Ok, vieni qua, vieni qua, vieni qua Oh, poi mi finisci di raccontare, eh Che sono curioso Assolutamente Ma che è successo? Adesso, cosa è successo nella partita precedente? Me lo spieghi Tu che sei esperto di forte Un casino, ho da ridere Come da ridere? Non c'è niente da ridere Altro che da ridere Lo vedo? È qua? Dove? Segnala Va dietro È morto quello Bravo È andato questo? Ce n'è uno? Dai che è andato Non c'ho più le cose per saltare Ora li salto sopra così Non ti fa fare, eh? Oh, oh, oh Ma c'è altra gente? No, in teoria no Ok, andai a raccontarmi questa storia dei bot, contro bot Ma che c'è? Non mica ho capito Non mica ho capito Vai Allora Tu in un video di Misti Giorni hai detto che a delle persone che sembravano dei bot come alias Dei botti come? Dei botti come? No, no, non spero Quale video me lo spieghi? In un video che ho fatto ultimamente In un video che ho fatto ultimamente Ma no, ho detto che sembravano l'anno scorso Sembravano alias l'anno scorso Scusami, che problema c'è? Eh, fa niente Tutti erate presato del bot Ma l'anno scorso Ma che c'è? Ma alias, veramente, me sta prendendo in giro Ma niente, mi ha dato, mi ha dato comunque del bot Ce la sei, alias Mi ha detto di fare un video? Stai veramente, stai scherzando? Veramente, mi stai trollando Poi chi è appunto che è entrato nel team? Ma che cosa dici? Allora, ehm Ho qualche diverso, ho qualche diverso Poche parole, hai poche parole vai In poche parole, hai poche parole Mi ha dato del bot Ma non è vero, vabbè, ma ritirano scopo Basta Non ce ne tra niente Non ce ne tra niente Sono su io Atterrato? Cecchinato? Finito? C'era il cecchino meglio del mio C'è la jump, ha messo la jump È scappato? Vieni, vieni qua su che ce la jump Vieni qua su Ok, vengo, vengo Vieni dove? Qua, qua, qua No, no, ho buttato giù Sicuramente ha qualcosa per saltare Perché non è cretino Non penso sia cretino Ha preso 47 tanno, morri Un po' cretino Vieni, pusha, pusha, pusha Sull'albero, io salgo sull'albero Mi fermo sull'albero C'è un altro team Cavolo Non è una bella Sali, sale Dovevo capire dove è l'altro team Squagliato con lì Sotto Morto, te l'ho trovato Atterrato quello? Ci sta il compagno sicuro? Dobbiamo capire dove? Oh, sopra Ma facevo non vederlo? Ma un bot No, mi ha buttato giù Mi ha buttato giù te Lo finisco questo Mi ha buttato giù lui Mi ha fatto male? Mi ha fatto molto male Sta salendo Mi finisco l'avversario Un andato Un andato Te lo fai? No Oh, oh, non muore più Non muore più Vabbè, tranquillo Ci sono io Servo a questo Abbiamo fatto pace ora? Non muore più Occhio arriva gente Vieni qua Lo sai? Apri, apri, apri dietro Ma Ma che è sto rumore? Sì, invece di Non lo so Comunque Stavamo dicendo Mi ha buttato fuori dal team Cioè dal gruppo Ma quanta roba c'è qua? Prendi la roba Gruppo Fate le band Fate quello che ti pare Hai tutto Ti manca qualcosa, no? La vita Vabbè, sì Non è che ti manca la vita In realtà a te manca un po' il cervello Stavamo dicendo Oh Preso? Dove sei? Alias, no, sto laggando Sono indietro, sono indietro I pacchetti persi Sono indietro, ok, sono indietro Si sta curando? Perché io ho fatto male, male Lo so morto Svede? No, va bene No Non sono io Mi finisce? So fremmi laggando Mi finisce? E ti devi finire, alias E sono morto 60 fps Sto laggando 9% i pacchetti persi Non ho vita Come me la gioco? Il pompa Mi spara Va bene Un altro team 21 21 col pompa viola Alias, ora mi dici tutto per bene Non c'è neanche la scusa che stai giocando Perché non ce l'ha capito nulla Assolutamente 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 Allora, vai Allora, airbot Airdiscord Niente è vero Poi? Forza Altro da aggiungere? Niente è vero Niente è vero Va bene Altro da aggiungere? Comunque Certo, assolutamente Poi è entrata È entrato questo qua nel Discord Cioè, è entrato questo qua nel team Non so chi sia Ma chi? E io non lo sapevo Ma chi? Nel team team neanche dice academy Ma chi? Nessuno è entrato Blackins Quello che hai detto prima Quello che hai detto prima E io non è Vaneggiando Sì Chi è? Cioè Tu avevi stabilito Che tutti dovevano sapere tutto Ma cosa? Ragazzo Alias, sei serio? Tutto bene? Vaneggiando Gli ex vaneggiando? Sì Era troppo forte Cioè, per forza Diretto Quasi capo lo mettevo Troppo forte Ma l'hai visto giocare? Eh, vabbè No, vabbè Aspetta E poi io comunque Non ne sapevo niente Va bene, va bene Poi Io mi sono preparato Ok Mi sono preparato Vai Sì, per uscire Cos'è questo? Alias, mi stai trollando Alias, sei un co*****o Sei un co*****o Sei un co*****o Stai ridendo Sei un co*****o Sei un co*****o Ma cosa hai creduto? Dai, un pochetto Ti fa conda Sta cosa qua Dai Dai Alias Sei un po' cascato Ci sei un po' cascato Di la verità Un pochino All'inizio Poi ho detto Ma che cazzo dice questo? Il co*****o Va bene Va bene, ci sto Però non mi hai trollato bene Non mi hai trollato bene Non è riuscito il troll Dai Ti è riuscito male E questo lo carichi Lo carichi lo stesso il video Va bene, lo carichi Lo carichi Va bene, ma ok Va bene Lo carichi A parte di scherzi Fuori video Ma Come vuoi? Vai Ma chi Ma chi Ma chi Questo va Deggiando È entrato Veramente È forte È È È